Buongiorno! 12.30 puntualissimi con i cuochi della prova del cuoco e per cucinare qualcosa di divertente ma soprattutto facile da poter ripetere e fare insieme. Allora oggi abbiamo come protagonista, come avete visto nelle storie, il nostro Natale giunta che da Palermo è collegato con noi, io oggi sono un po' bassina. Scusate, eccomi! I cucini sotto, ecco, sopra il divano. Allora ci siamo, Natale, buongiorno, ci sei? Adesso vengo subito a farti la richiesta e poi ve lo dico perché è giusto dirlo e mi manca da morire, ci sarà una bella sorpresa per voi, ci sarà dai in collegamento a zio Claudio Lippi e quindi ci siamo, siamo tutti insieme. Allora Natale, ecco ti, ci siamo a giù. Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Da Roma a Palermo, risponde Palermo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.